La prodo di Miano in panchina, in quel di Grosseto dal direttore sportivo Bicchierai, sembra poter lasciare via libera a Vitaliano Buonuccelli come il nuovo trainer del Montevarchi. L'ex allenatore di Fortis Juventus e Gavornano infatti appariva tentato dall'idea del rilancio e Maremma dei Torelli, Torelli delusi dopo un anno parco di soddisfazione fermato alla finale playoff del girone. Buonuccelli gradito a Rosadini è però solo la prima opzione per l'Aquila visto che si sarebbe bloccata la pista che dava certo l'approdo di Guarducci al San Donato Tavarnelle e così l'allenatore che è stato sulla panchina della Rignanese fino a questo mese è un altro nome apprezzato dalla stanza dei Bottoni Rosso Blu. La terza opzione uscita nelle ultimissime ore è invece quella legata a Luigi Pagliuca, un nome accostato alla San Giovannese la scorsa estate. Ex calciatore attualmente sulla panchina delle giovanili a Livorno e pronto per una prima esperienza da direttore mastro dei lavori. Nelle prossime ore dunque la scelta con la presentazione poi attesa la prossima settimana.